Gli ospedali riuniti di Bergamo sono pronti a pagare direttamente i subappaltatori che hanno lavorato per la costruzione del nuovo ospedale e non sono stati saldati dalla DEC, l'appaltatore generale. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Carlo Nicora ha dichiarato faremo ciò che le norme ci consentono di fare per riconoscere quanto dovuto a chi ha lavorato nel nostro cantiere. Ieri i vertici dell'azienda ospedaliera hanno incontrato una delegazione della LIA, Liberi Imprenditori Associati, che rappresenta il comitato delle aziende in credito con gli appaltatori. Da alcune settimane il gruppo di imprenditori aveva minacciato azioni dure contro l'azienda ospedaliera, dal mancato rilascio di certificati al termine dei lavori ad un blocco di protesta davanti agli ingressi del nuovo ospedale. Alla vigilia dell'incontro la LIA aveva proposto la formula dell'accessione del credito con la quale i riuniti prenderebbero in carico i debiti lasciati dalla DEC. Una proposta che è stata discussa durante la riunione di ieri e sulla base della quale si è aperto il dialogo. L'ospedale e la LIA hanno firmato un documento che li impegna a cercare soluzioni condivise. Nelle prossime due settimane gli avvocati di entrambe le parti lavoreranno per verificare la fattibilità legale ed economica di questa proposta. Le dite che attendono ancora di essere pagate dalla DEC o dalla Busi, altra appaltatrice fallita nel luglio scorso, sono almeno 150.